ciao ragazzi questo qua è un video fatto con lo smartisan nut pro 2 adesso esco un attimo da casa che vi faccio anche vedere fuori com'è che va come si comporta siamo all'aperto lo sto tenendo con le mani quindi senza nessun gimbal né niente quindi diciamo che vediamo anche messo a fuoco evidentemente si vede che da vicino fa molta 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 fatica anche se qua c'è davvero davvero molta luce dobbiamo fare un giro vedere a modo com'è che si comporta se vedere anche la stabilizzazione e quant'altro non riesce mica mettere a fuoco ecco adesso ha messo a fuoco la foglia andiamo un attimino a fare nel complesso si comporta anche bene contando che comunque sia pur sempre un meglio gamma e non è mica un top di gamma insomma andiamo a fare anche un piccolo zoom a vedere questo è lo zoom massimo che si riesce a fare a vedere come si comporta ora torniamo dentro verso l'ufficio per vedere un po come va insomma e basta vediamo qua anche la pianta magari fa meno fatica perché non c'è mica più il sole all'ombra non va neanche male qui riesce a mettere a fuoco bene è solo quando c'è tanto solo che evidentemente non non mi riesce mica a mettere a fuoco tutto qua ecco è rimettorato dentro ciao ragazzi